amici della tana in questo video vi mostro la mia collezione italiana dedicata a silver surfer il surfista d'argento si comincia un caloroso benvenuto a tutti nella tana del ragno benvenuti 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 a vecchi nuovi e nuovissimi iscritti oggi vi mostro la mia collezione non tutto 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 ragazzi perché ci vorrebbe un video di 4 5 10 ore ma vi mostro solo la mia collezione di brossurati e spillati dedicati a silver surfer questo bellissimo personaggio creato nel 1966 dal grandissimo stan lee e dall'immenso jack kirby vi farò vedere in particolare la serie di brossurati pubblicati a partire dal 1989 da play press e poi successivamente i numeri che ha pubblicato marvel italia prima di cominciare innanzitutto un bel grazie ma bello bello grosso grosso a tutti voi che mi seguite e che non vi stancate di seguirmi perché ci vuole anche un po di sopportazione perché io a volte sono un po chiacchierone logorroico e quindi i miei video possono sembrare anche noiosi oppure non sembrare possono essere anche noiosi quindi ho deciso ragazzi di fare dei video un pochino più coincisi ma più ricchi di cose da vedere la storia editoriale in italia di silver surfer comincia con il numero 1 dell'incredibile devil perché in questo vecchissimo albo per la prima volta in italia appare il serpista d'argento il numero 1 di 18 questa prima serie disegnata da john buscema e sceneggiata dal grande stan lee successivamente poi riappare nella serie che ora vi faccio vedere bene cominciamo cominciamo dalla play press primo numero allora nella nell'ottobre del 1989 play press rilancia in italia i supereroi con varie testate una di queste è appunto silver surfer qui potete vedere il primo numero che contiene fra l'altro tor quindi come comprimario e nel primo numero si parte alla grande perché gli ospiti sono i fantastici e ora vi faccio vedere tutta questa serie che si compone di 53 numeri cominciamo numero 1 il numero 2 nel frattempo è caduto silver surfer numero 3 nello stesso tempo ragazzi in edicola usciva iron man già da 11 numeri questo per farvi un po' la cronostoria anche della play press numero 3 comprimario tor numero 4 numero 5 ancora tor come coprotagonista il numero 6 il numero 7 e qui mi sono segnato che c'è un cameo dell'uomo ragno in silver surfer numero 7 pagina 15 per chi non lo sapesse io metto questi segnalibro nei tutti i fumetti dove appare l'uomo ragno o in un cameo o in una semplice in un tema oppure in una semplice tavola proprio così è un passant e perché mi serve a me serve a me come catalogazione mi serve a me non non si dice cancellatelo non sto neanche cancellarlo nel video cancellatelo voi dalla vostra mente non l'ho detto serve a me per catalogazione personale per trovare meglio gli albi in cui appare il ragnetto numero 8 ancora tor come comprimario qui parto dalla copertina sul retro perché guardate che bello la play press ogni tanto faceva questi speciali chiamati playbook play special play extra in cui metteva delle storie delle miniserie davvero davvero una bella bella collana che vi farò vedere ovviamente in un'altra occasione perché ragazzi il materiale da mostrare è tantissimo è enorme numero 9 numero 10 il numero 11 il numero 12 numero 13 numero 13 qui abbiamo anche Ronan l'accusatore numero 13 numero 14 qui ho ancora il prezzo di quanto ho pagato questo fumetto ovviamente nella copertina esterna protettiva il numero 14 numero 15 con gli eterni guerra con il super scroll e qui ci sono le storie di pantera nera alcune storie di pantera nera qui abbiamo il doctor strange infatti c'è un cameo dell'uomo ragno in doctor strange numero 32 e qui ancora un team up tra silver surfer e i fantastici 4 in questo caso sono i fantastici 2 perché non vedo la cosa e la torcia umana numero 17 silver surfer alle prese con gli antichi dell'universo gli antichi scomparsi e l'intermediario e poi ancora la storia del doctor strange vediamo qua avevamo marshal low questo credo che sia la serie una serie dell'image image comics doctor strange o della dc ora non lo so non ricordo numero 19 bellissimo contro il signore del fuoco il numero 20 ancora doctor strange come comprimario e il numero 21 silver surfer contro il terribile cancellatore numero 22 23 play press era solita a volte fare il doppio numero quindi un pochino più grosso con il doppio delle pagine di tanto in tanto questo è successo sia nella serie di silver surfer che nelle altre serie via via pubblicate da questa casa editrice e abbiamo silver surfer numero 22 23 con tor numero doppio con tor la terza serie americana di silver surfer le cui storie sono contenute all'interno di questa serie della play press era composta da 146 numeri e dal 111 al 122 sono rimasti inediti poi dal 123 in poi sono state pubblicate su fantastici 4 di marvel italia numero 24 ancora tor come comprimario la numero 20 il numero 25 doctor strange numero 26 questa è una serie ragazzi che io ho acquistato in blocco di ormai diverso tempo fa una serie veramente veramente tenuta bene qui abbiamo un numero 27 e il dorso guardate è differente con un dorso nero anziché il classico dorso bianco ora non so il motivo voi se lo conoscete scrivetelo sotto ma non credo ci sia un motivo particolare non si tratta di una variant cover o simili credo sia stata così una scelta occasionale della casa editrice numero 28 ancora doctor strange come comprimario la morte del super scroll numero 29 e qui abbiamo la miniserie dedicata a mefisto il numero 30 con il grande concorso in america con play press il numero 31 questa casa editrice pubblicava anche le storie americane dei vari supereroi della DC quindi c'era una linea dedicata alla marvel e una linea dedicata alla DC comics numero 32 numero 33 e qui adesso vi interrogo io ragazzi perché c'è questo segnalibro vediamo se siete stati attenti ma io che cazzo ne so scusa ancora un numero doppio guardate che bello numero 33 34 35 il primo numero di una grande era chiamatelo Thanos chiamatelo morte ancora numero 36 cameo in silver surfer 36 cameo ovviamente del ragnetto e qui abbiamo la partecipazione di warlock e capitan marvel numero 37 all'interno tre storie del surfista galattico silver surfer anche qui un altro cameo tre storie del surfista d'argento speciale 72 pagine siamo al numero 39 il numero 40 guardate che bello sigillato con il suo gadget all'interno e anche qui cameo di spider questo numero l'avevo pagato 10 euro proprio perché è sigillato così come uscito dalla casa editrice con questo gadgettino con l'intervista esclusiva a George Perez e Jack Kirby siamo arrivati al numero 41 41 con ospite d'onore warlock una storia di iron man e qui vediamo nello stesso mese uscivano la sensazionale shiul che per la serie play special e deadlock per la serie credo marvel marvel extra play extra qualcosa di simile numero 42 rivelati i segreti del passato di silver surfer numero 43 crossover zona m questa serie riparte su un'altra serie della marvel numero 44 e qui i comprimari sono new warriors un gruppo ormai dimenticato sul quale avevo intenzione di fare un video specifico per farvi vedere soprattutto le cose più vecchie dedicate a questo super gruppo qui abbiamo stranamente uno scontro contro rino difficilmente silver surfer affronta supereroi e super criminali terrestri diciamo così però in questo caso c'è questo scontro qui abbiamo un super mega super mega numero di speciale ma veramente super speciale perché è il doppio dei numeri doppi scusate il gioco di parole ma è così ancora un altro numero speciale di 128 pagine il 48 ospiti d'onore a sorpresa il numero 49 anche questo paghicchiato perché ha il suo gaggettino che presenta credo il rilancio di superman in italia il numero 50 il numero 51 anche questi sono tutti brossurati quasi doppi rispetto al formato degli altri formati qui abbiamo un crossover tempesta nella galassia tredicesima parte e silver surfer contiene storie di iron man e qui siamo arrivati all'ultimissimo numero il numero 53 bene amici tanaioli adesso andiamo a vedere la serie di marvel italia a partire da aprile 1995 la serie che si era interrotta con l'ultimo numero della play press riparte con gli spillati di marvel italia e qui potete vedere il primo numero diciamo così il numero lancio variant mi pare di claudio castellini la variant di claudio castellini anzi lo numero zero preview un numero speciale una variant cover dedicata al surfista perché marvel italia parte con una serie di numeri zero dopo aver rilevato da star comics i diritti di marvel parte con una serie di bellissimi numeri zero alcuni in versione diciamo così regolare altri in versione gold in questo caso abbiamo lo zero di silver surfer preview perché poi il numero zero è questo qua con il prezzo speciale l'offerta lancio di 1500 lire vedete siamo nell'aprile del 95 questo è il numero zero da questo numero in poi parte la serie 17 numeri e vediamo il primo numero numero speciale per collezionisti la resurrezione di gabriel numero due con il regalo tre mega card perché in quel periodo c'erano le mega cards della della marvel in ogni fumetto potevate trovare appunto tre cards che poi andavano a completare questo album di personaggi della marvel qui abbiamo un cameo a pagina 48 di silver surfer 76 quindi questo numero sappiamo che è stato pubblicato il 76 di silver surfer ci serve come riferimento per vedere a quale numero con quale numero si conclude la serie americana su silver surfer marvel italia numero 3 numero 4 il numero 5 il numero 6 il numero 7 contro tor per la vita di beta ray bill sangue tuoni uno di 6 che ovviamente è un crossover su tor quindi qui troviamo il 3 di 6 ospite d'onore warlock qui troviamo il 5 di 6 quindi numeri pari furono pubblicati a suo tempo nella serie tor torre capitano america mi pare uscisse nel 95 96 numero 10 numero 11 con la torcia numero 12 con i fantastici 4 sotto terra parte 2 di 2 questo bellissimo numero 13 con un pacchetto di card flare che io purtroppo non ho perché questa non è una versione sigillata con le card però è ugualmente una bellissima variant panoramica con questo mefisto da una parte e silver surfer dall'altra uno speciale 100 pagine siamo nell'agosto 96 il numero 14 anche qui guardate che bello una cover panoramica ancora una cover panoramica nel numero 15 100 pagine d'avventura il numero 16 ai 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 siamo al penultimo numero questa bellissima cover con dottor destino trionfante ai suoi piedi un norrin rad ormai esanime e l'ultimo numero degli spillati con ospite d'onore il figlio di capitan marvel perduti sul pianeta del piacere wow ragazzi che bella perdita che bello sperdimento passatemi questo bruttissimo termine alla checco zalone questo sperdimento sul pianeta del piacere si conclude con questo numero la serie italiana di silver surfer e siamo arrivati al numero 110 americano come detto dal 111 al 122 sono inediti e poi la serie ricompare su fantastici 4 123 fantastici 4 di marvel italia bene amici della tana cari tanaioli siamo arrivati al termine di questo video spero di avervi tenuto compagnia di non avervi annoiato ma al contrario incuriosito magari che so deliziato con queste bellissime copertine con queste bellissime storie del surfista d'argento prima di salutarci vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale a spuntare la campanellina che vi avviserà quando un nuovo video sarà stato caricato e se volete se volete lasciate un bel like vi ricordo che potete trovarmi anche su instagram cercate la tana del ragno la tana del ragno e se volete andate anche lì iscrivetevi e seguite le pillole di tana che ogni giorno vi butto la pubblico così per tenervi anche lì compagnia e farvi vedere le cose che potete che ci si trovano insomma nella mia collezione detto questo non ci resta che salutarci con la solita formula che uso ogni volta che devo lasciarvi ossia dalla tana del ragno dove si sta veramente veramente da dio in compagnia di silver surfer e di tutti i suoi comprimari vi giunga il mio più caro amichevole amorevole fraterno intergalattico ciao vi aspetto numerosi nella tana del ragno e mi raccomando iscrivetevi 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 ciao ciao